Questa è un'idea partita un po' di tempo fa. Noi abbiamo realizzato nel parco di Via Rossi un mercatino, perché l'altro evento lo abbiamo dovuto annullare, causa maltempo e pandemia, perché c'è anche questo problema. E quindi il ricavato di questo mercatino dove espositori e avventori del mercatino hanno contribuito acquistando e vendendo i loro prodotti per creare questi contributi che oggi siamo venuti a consegnare. Sono quattro buoni da 50 euro cada uno, dove si potranno soffrire quattro famiglie bisognose del quartiere Pantano. Quindi noi abbiamo voluto rivolgerci ai servizi sociali del comune di Pesaro e in modo particolare alle referenti del quartiere Pantano. E quindi saranno loro a consegnare queste quattro buoni spesa Euro Spin a quelle quattro famiglie più bisognose del quartiere. Sarà il primo di altri belli gesti come questo? Certo, ci rivedremo a breve, probabilmente già a maggio, perché abbiamo ricevuto un contributo dal comune, dovrebbe arrivare a breve. E quindi anche una parte di questo contributo, che ringrazio l'assessore Daniele Vimini perché ci ha dato il patrocinio per una rassegna di film, di cineforum che stiamo facendo, e un contributo ci viene dato da loro e quindi anche lì una parte andrà consegnata sempre qui ai servizi sociali. Iniziative future invece da parte vostra? Allora, innanzitutto ci sarà a breve, partirà un progetto sui bambini, conoscere la Costituzione giocando. Quindi è un po' un progetto che vuole così insegnare ai bambini di età scolastica come è data la Costituzione. Ci sarà poi un saggio a fine corso, poi ci sarà, stiamo pensando a un progetto, ecco che lo voglio dire che è molto importante, una raccolta fondi per mandare la squadra nazionale di basket femminile sordomute ai mondiali a Creta nel 2023. Perché è un progetto che ci tengo molto e ci teniamo molto, perché mi sembra giusto che queste ragazze possano realizzare il loro sogno. Sono un po' dimenticate da chi invece dovrebbe supportarle e quindi adesso noi non ci siamo dimenticati e le portiamo avanti questo progetto anche grazie al Presidente Provinciale Massimo Ciabocchi, Hauser, e a tutti i circoli Hauser che ieri hanno appoggiato questa nuova iniziativa.